Ben ritrovati all'appuntamento con le tendenze a meglio lungo termine di Trevi Meteo. Vediamo qui quando potrebbe terminare questo lungo periodo anticiclonico che sta caratterizzando tutto il mese di dicembre. Diciamo subito che non sarà facile smantellare una così forte e robusta struttura di alta pressione, tuttavia qualche attacco all'anticiclone potrà essere portato intorno al periodo di 18-20 dicembre, inizialmente da correnti balcaniche più fresche che interesseranno però prevalentemente i settori adriatici e ionici e non porteranno fenomeni di rilievo. Tuttavia in un secondo momento, proprio in prossimità del Natale, l'anticiclone potrebbe schiacciarsi più a sud verso il Mediterraneo, incalzato da correnti perturbate atlantiche sotto la spinta di un vortice di zanda molto forte e qualche perturbazione potrebbe finalmente iniziare a raggiungere le Alpi, portando così i primi fenomeni nevosi però soltanto a quote alte dopo tanto tempo. Tuttavia per maggiori informazioni e dettagli vi consiglio di consultare il nostro sito www.trebimeteo.com www.trebimeteo.com